Il Valle Soverato prepara il match del consueto turno di Santo Stefano che ormai è diventato una tradizione per la Lega Volley femminile. Si va a Marsala, un impegno difficile e soprattutto un'occasione per riscattare il K.O. interno subito domenica scorsa per mano di Marignano. Coach Barbieri, sappiamo che sarà una trasferta lunga e ostica. Abbiamo visto domenica tra l'altro il Marsala dar del filo da torcere alla capolista Cuneo, quindi significa che è una squadra che gode anche di buona salute e in casa si riesce ad esprimere magari su livelli anche maggiori. Sì, abbiamo visto la partita con Cuneo, devo dire che hanno più volte avuto la possibilità di fare il 2-2, perciò è una squadra sicuramente molto in palla, forse ha qualche punto in meno rispetto alle aspettative. Però noi siamo convinti che vedendo anche la partita pur persa, però abbiamo fatto 2-7 e mezzo veramente ad alto livello, perciò dobbiamo solo dare continuità alla prima, come ripeto, le prime parti del match che abbiamo fatto danno un attimino più di continuità. Domenica scorsa nel post-gara con lei analizzando il match avevamo parlato di un problema probabilmente in questo momento più mentale da parte della squadra. Alla luce della settimana di lavoro trascorsa e magari anche dell'avere analizzato a freddo la partita, cosa può dirci soprattutto nel quarto set dove la squadra magari è sembrata un po' più rassegnata? Il quarto set è quello che più mi è spiaciuto perché abbiamo perso il set con degli episodi, ci sta alcune volte andata bene, è stato che effettivamente siamo arrivati in un campo un po' demotivati. Ci siamo portati gli errori del terzo set, ho parlato con le ragazze, l'hanno detto anche loro, cioè effettivamente ho fatto un errore o due decisivo perché abbiamo avuto 3 set ball, questo però non deve succedere. Anche se il set prima, come tutti sanno, ha avuto 3-4 set ball e non si è riuscito a chiudere, il set dopo lo devi dimenticare. Noi invece ce li siamo portati un po' dietro, però non facciamo drammi, ne abbiamo parlato solo del fatto di essere più cinici e se si commette un errore o due di non stare a pesare o portarselo dietro ma di giocare sempre con la giusta serenità. Infine analizzando nello specifico il sestetto di Marsala, quali sono le caratteristiche di questa squadra che comunque vanta anche degli elementi di una certa esperienza in questa categoria e quindi è una squadra che comunque può contare su un mix di giocatrici giovani ma anche alcuni esperti. Sì, è una squadra molto equilibrata, non ha una stella, non ha una giocatrice che in questo momento sta facendo la differenza, tutti e tre attaccanti hanno un numero di palle abbastanza equo e tutti e tre hanno delle buone percentuali, perciò non hanno un giocatore di riferimento e forse è quello che gli è mancato nei momenti decisivi.